e che fare pure io si può condannare eccola oh finalmente sei arrivata va bene ecco andiamo a vedere Ville? Agriopero? Va bene passare 9? Si va bene ok E' passata davanti Yaspoli che cosa state parlando? E' di basket, è veramente una sportica Possibile? Neanch'io è sparito tutto tutto, tu non l'hai visto? Cioè non so... Vabbè vai ne prenderò neanche La ciotta! La ciotta! 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 Ma è possibile? Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! La ciotta! 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 La ciotta!